La festa del Chieti davanti al proprio pubblico con la Serie D, già in tasca maglia commemorativa per Alessandro Mancinelli, Svlo del Chieti per ricordare i diversi tifosi nero-verdi scomparsi ultimamente. Corticchia, nominato dai tifosi miglior calciatore del Chieti in questa stagione, contro l'angolana Lucarelli sceglie i calciatori con un minore minutaggio e passa al 3-4-1-2 con i Cramella, le spalle di Spadafora e Galli. Un primo tempo frizzante all'Angelini con la Renato Curiangolana che davanti ai quasi mille dell'Angelini nel posticipo tenta il primo blitz con Farias centrale, nessun pericolo per Russo. Sul versante opposto immagini di Alberto Capo e Cramella per Galli che conclude sul fondo i primi sprazzi di Anas e Cramella tra i migliori in campo a galleggiare tra le linee. E' quindi Emanuele Farias che cede a Miani il gol dell'1-0 angolana. Passa in vantaggio la squadra nerazzurra sull'affondo dell'argentino Miani a quota 7 a un solo gol dal capocannoniere Stefano Micicchè. Ma non tarda ad arrivare il pareggio del Chieti con Mucciante che interviene in maniera irregolare sul capitano Guido Galli. Ci sono tutti gli estremi per concedere un tiro dagli 11 metri e proprio Galli ad incaricarsi della battuta soluzione centrale Pudu. Non riesce a respingere ed è 1-1 Chieti. Immediata quindi la risposta nero verde che trova la firma di Guido Galli. Ma l'angolana sfiora il punto dell'1-2 con Casati. La traversa della Renato Curiangolana scesa nel campo secondo i canoni del 4-2-3-1 con Miani. Punto di riferimento avanzato prima dell'intervallo. Spadafora, deviazione di Mucciante ma è un Chieti che convince il pubblico numeroso dell'Angelini. Nella ripresa, altro pericolo per l'angolana. Trema il Chieti che resiste ancora sull'1-1 ma ribalta con Spadafora che riceve da uno sontuoso Anas Icramella che danza sul pallone. Spadafora, 2-1 Chieti, conclusione ad incrociare Pudu. Incolpevole, un gran gol per Manuel Spadafora che aggancia a quota 5 Rodia nella classifica marcatori del Chieti. Quindi Spadafora per Mastrilli. Da questi a Galli, mostruoso Pudu che gli sbarra la strada ed evita il gol del 3-1. Quindi i due appena entrati sul terreno di gioco belli e tacchi a mettere scompiglio nella difesa dell'angolana. Entra anche Luca Fabrizio al posto di Guido Galli per partecipare alla festa. Non arriva per lui il gol, quindi dall'altra parte l'ultima opportunità per venire al pari ma può bastare così. Il Chieti vince davanti al proprio pubblico 10 successi, due pari nel campionato martedì. Il vertice tra Lucarelli e la società. Per l'eventuale prolungamento del contratto possono partire i festeggiamenti che proseguiranno fino a tardanotte. Chieti 2, Angolana 1, il Chieti dei record. E di nuovo in Serie D.